ehi la ciurma io sono mazzetessa e mi trovo qui con pavesini o pavesini ok e siamo qui su saints row 4 pronti per affrontare una nuova missione ci siamo andati a recuperare un sono un unicorno sono un unicorno ma cos'è sta roba me lo sparo scorreggio è quello che dici tu si mi manca ah no mi hai preso ah ma dopo un po' esplode quello e fa una puzza marco facciamo questa missione ma se no non facciamo un kaiser qua in carichi dai andiamo io voglio fare troppo questa campagna della distruzione perché se non incontriamo kate david sulla nave guarda cosa ci dà ci dà una pistola dubstep cioè marco io vado a incontrare kate sulla nave me ne frega niente nooo si sta arrivando stavo scorreggiando da sugli agenti mi dice 200 metri ma è una mica 200 metri quella discusa mi sono fatto più di due isolati vabbè sono arrivato ma come hai fatto più in fretta di me esci dal varco varco e di alle funzioni che sono le funzioni del varco a guardaroba garage deposito di armi a puoi lasciare le robe qua tipo ea c'è entro il varco arriviamo l'astronave andiamo sotto la tizia ci dà una pistola dubstep ciao bello parla o cortina dove è il tizio no ma è qua ciao bello parla che mi piace presione posso comunque corteggiarlo non so il senso che senso ha vabbè ce lo corteggio te lo dico non ci può essere nulla non potrebbe funzionare ma che l'ha presa sul serio io provo a vedere allora cosa succede se faccio io cosa succede se lo corteggi tu ti dirò la stessa cosa se il mio capo no se il mio capo non posso rovinare il nostro rapporto ai forti vedi a torni la ma la missione c'è la data passata sì 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 vuol dire che posso usare la pistola da dove la pistola dubstep voglio 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 la pistola dubstep tipo che parte il pezzo di super dubstep quando la usi a dove di teletrasporti però scusa un attimo voglio saperlo giusto per andare da un'altra parte non lo so non so nemmeno come si fa io andrei tipo dove c'è friendly fire dove ci siamo fatti le munizioni adesso pure in alto a sinistra a stanfield ecco ok e andiamo lì non possiamo ma no dove possiamo acqua c'è la porta il barco appena sotto usciamo ecco perché forse è l'unico che abbiamo come varco tra l'altro per ora e adesso che sono qua posso accedere le funzioni armi deposito di armi posso prendermi l'arma perché mi è uscito marco basta non riesco a fare niente non c'è di effetto no ma il pistola dubstep dove scusa io ce l'ho la pistola dubstep ma dov'è dove la trovi dlc remix ce l'hai ce l'hai il dlc a me piace questo ma non me la da eppure dovrebbe avermela ben sbloccata mi ha detto che l'avevo sbloccata incarichi ah no dobbiamo finire il coso corri attraverso il sistema corriamo attraverso il sistema allora dove a devo correre la oddio la mia pistola quella che ho io che sparano a pigliare un un booster data oddio la mia pistola suona musica la patriottica americana ma che c'è l'attività coop che c'è l'attività coop si è questa no cos'è ah la corsa quella della corsa dobbiamo fare la corsa ok è questa che dobbiamo fare giusto si che poi ci dà la la pistola dubstep ma io ce l'ho già che è questa roba no ho capito Oh, mi sono schientato. Anch'io. È difficile da guidare. Sta finendo, no? Oddio. Cribbio. Fallimento. Forse non dobbiamo andare addosso a quelli rossi, vero? No, non dobbiamo andare a quelli rossi. Quelli veri li dobbiamo prendere? Ma perché? Ok, sono pronto. Io ho preso anche quelli rossi. Che sono quelli rossi? Il fuoco, dici? Sì. Forse ho sbagliato, però quello... Ok. Ah, forse non devi colpire roba. Quella rossa. Eh, sì, mi ha fatto un suono strano. Ok. No, mi dà un bonus. Mi toglie roba in generale. Ma dove... dove devo passare di qua? Se colpisco delle persone o degli oggetti mi... Come dieci su, un dieci su, un dieci su, un dieci su... ORO! ORO! Eh sì, ma dobbiamo anche arrivare. Oro. Ah no, completata, perfetto. Ho preso l'ORO, io. Grande, anche a me hai dato. Vita, però. GG, però ti ho dato 5.000 di oro. Di denaro. 5.000. Grande esperienza. E di denaro se ci dà la pistola. Più che altro. Io ce l'ho già... Ma a me no. Non l'ha ancora data, mi hai detto che devo finire la pistola. Io ho anche questa pistola... Non hai quella dubstep, tu scusi, hai detto che è quella che suona la musica patriottica. Guarda questa che è bella. No, è finita quella, quindi... Dovrei avercela. Vuoi vedere la pistola? Cos'è quella roba? Vuoi vedere... Dobbiamo andare a 1.800, 1.700. Danneggia il sistema, che ca... Ma l'hai citato tu quella roba? No, dobbiamo finire quella, forse abbiamo sbagliato appunto. Ma no, a me l'ha da finita quella roba. No, non ho citato niente io. Ah. Lo dirò. Oh, devo spendere i cluster data io. Anch'io ne ho 79. Dopo lo li spenderò. Però, senza offesa, a me sembrano quasi inutili le armi. Eh sì, ma la fin fine... No, beh, a me piace un sacco di più quelle che non... Di superpoteri. Qua ho trovato una cosa strana. Guarda. Cosa? Un globo... Un globo di luce che non posso prendere. Vabbè, questo non era. Ma cosa hai fatto? Sono quasi arrivato, insomma. A me mancano 800 metri ancora. Anch'io e a me, però è poco. 740. Yeah, guarda, è ancora sul tetto. Cambio arma perché... Ah, dobbiamo sfasciare sto cos'ora, sto globo rosso alla fin fine. Dove? Sto arrivando. Credo, perché la missione è qua. Ah, sono già arrivato io. Anch'io. Yeah. Ero lì. Grand'uomo. Cosa dobbiamo fare? Compia una carneficina. Ho un buco nero. Bello. Ma perché continuo a cadere per terra? Marco, non spararmi addosso. Non ti sto sparando addosso, ok. Ma stia facendo pochi danni. Marco mi hai ucciso praticamente. No. Senti, tu sbarra di là, io sbarro di qua. Sto facendo un blasto qui. Non ho provato a perdere questo. Ops, mi è arrivato un coso ultra liceo dalla luce in testa. Siamo vicini all'obiettivo. Bronzo. Ah, c'è un bronzo. No, adesso abbiamo raggiunto il bronzo. 50 mira. Sì, ma ci sono poche... Io vado a cercare un altro punto pieno di gente, perché qua non c'è niente. Ma sai che con le macchine fai un sacco di punti? Si assorbi le macchine. Sì, ma ci devono essere le macchine. Qua me ne stavano arrivando un fracco. Uh, qua ce n'è un fracco. Appunto. Postandosi. Postandosi. Continua, no, solo bronzo ben preso, anche l'argento Sì, non siamo arrivati ad argento Sì, vabbè, però non abbiamo fatto l'oro, che palle Non abbiamo platinato, siamo al senso disponibili a diverse istanze impegnative dell'attività vandalismo Ok, ok, ok Ora c'è l'altra pistola Vuoi vedere la pistola? Io ce l'ho Andiamo al negozio di armi Vieni Sto andando al negozio di armi Eccolo Dobbiamo sbloccarlo però, devo sbloccarlo Inizia a traccare Ah, no, sei? Ci dà una missione Perché continuo a darci missioni sto che ti dai a video adesso? Mi piace, signore C'è da craccare il negozio? Cracca L'ho craccato Togliti Ma Ma che non me la dà? Non me la dà? Pistola d'abster Dov'è? Sotto cosa? Ah Sotto cos'è? Quale delle varie... Sotto armi Sì, ma quali delle varie è la rotellina? Speciali Speciali Non ce l'ho Guarda cos'ho Vieni fuori, ti faccio vedere Lancia coltelli Guarda Vieni fuori Ma mi dici in possesso, come faccio a cambiarle però? Ah, dal tizio l'ho La cavalcata del Valkyrie è questa? Ho anche questo Aspetta, no, ho sbagliato Questo Cos'è? C'è freddi No, non è il co-ling questo No Cambio arma, mi fa schifo Perché balla Prendo questa Guarda che bella quest'arma Dovrei comprare... Dov'era il negozio adesso? Ma che c***o? Tu sei un maniaco pazzo Io mi acquisto delle munizioni, scusa per il... Non c'è raggio Non c'è raggio Marco, facciamo questa missione qua che ci dice Dobbiamo andare tra un chilometro Ci vediamo tra un chilometro Ok Ma non ho capito perché ce l'ho dato... Cioè ce l'ho dato in automatico Un po' Tu 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 Forse dobbiamo fare ancora questo prima di avere la pistola dubstep No, io ce l'ho già la pistola dubstep E lo so, ma sarà perché c'hai il DLC Appunto Ciò che devo sbloccare il... La... No, cioè che dovresti avere il DLC Ma se no non me la dà scusa come premio della missione Forse... È perché ce l'ho io Un po' Ah... Devo liberare il flashpoint Mi sto arrivando più o meno Oh Sei stato tu eh Oddio che danni che fa Fa un sacco di danni Ma stai facendo danni a me Quello la fa danni ad aria Senti polizontri Ma perché Dokkan L'abbiamo fatto allora Eh... Vai alla posizione Cosa ci fa fare sto qua? Sto raccogliendo i soldi Anch'io Sto continuando a tenere il poliziotto come scudo qua Qua è scudo umano Uccidi il bersaglia Uno Bugato tutto Marco mi... mi si è ferizzato tutto Oh Ho ucciso il programma canaglia Ehm... Mi si è ferizzato proprio il computer Non... non... non succede più... Cioè... Lo schermo è... È bloccato Fammi aspettare in una zona sicura Però se esco non posso salvare Porca pupazza Non l'ho salvato Oddio Ci ha salvato in automatico ma non so di quando sarà No... Perché? Ma come si è freggiato tutto? Niente... è tutto fermo E' strano Non so neanche se posso finire la registrazione Ma il cavallo da caricherai su tu Nel senso che proprio... Blocca tutto interamente Non posso neanche cambiare... Ah no posso switchare finestra, si Ok... Ma sai cosa possiamo fare invece? E' uscito E che... Possiamo fare che io la secco... Tranquillo ma se la seconda parte la prendo io e la prima la tieni tu Ok... Va bene? Aspetta che forse riesco a... Allora apponti... Rizzare... no... Ehm... Stoppo qua io Esatto Saluti tu alla fine o salutiamo già adesso? Non so cosa stai facendo Incontra Cat sulla nave Ah io posso uscire... Posso saluto... Cioè saluto o non saluto? O saluti tu o non saluta nessuno Ma non ci sei tu? Aspetta... Ma sei ancora con me? Cioè io sarò ancora là però in mente ma il gioco non mi risponde più Ria via il gioco? E lo so ma chiuderò a fare la registrazione? Perché se no mi si chiude comunque la sola Si chiudi Ciao 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 ciao